Cosa è la cittadina? Cosa è la cittadina? Un nucleo centrale per costruire una nuova politica, una nuova politica che deve partire dal basso, dagli individui, dai cittadini, dai loro reti sociali, dalla comunità ma anche dalla rivendicazione di una serie di diritti pubblici e dalla rivendicazione dei principi di sovranità, sovranità popolare. Ovvero l'idea che i cittadini nel loro congiunto, la cittadinanza, ha il potere di decidere il proprio destino collettivo, che non devono essere l'elite economica e politica a deciderlo, non devono essere i grandi cartelli economici, ma devono essere i cittadini nel loro congiunto a controllare il proprio destino. Questa è l'idea del cittadinismo. Perfetto, le tue parole chiave per il futuro? Le parole chiave per il futuro sono sicuramente l'eguaglianza. Viviamo in un mondo di ineguaglianza grottesca, estrema. Non si è mai visto un livello di ineguaglianza economica come quello che vediamo in questi giorni. La seconda idea è l'idea di democrazia. Rivendicare la democrazia perché non c'è un'eguaglianza senza democrazia. Non si può raggiungere l'eguaglianza economica se non riusciamo a ricostruire un potere collettivo, un potere dei molti contro il potere dei pochi. La terza idea è l'idea di sovranità, ovvero il controllo su un territorio locale, nazionale, transnazionale, dove è la collettività dei cittadini che assieme decide il destino comune.